Un post su Facebook dell'ex sindaco di Gela, Angelo Vasulo, è in città scoppia di rompente la polemica politica. Il PD che si vuole male, scrive l'ex sindaco, dopo aver letto le dichiarazioni di Fassina pronto a votare e candidarsi contro il PD a Roma, sento che a Gela una parte del Partito Democratico e altri pensatori del Consiglio Comunale sono pronti a fare di più. Concludere un accordo con Messinese e per lui con Siciliano per gestire Gela. In pratica i 5 Stelle scaricano Messinese e compagni per manifesta incapacità e parte del PD corre in soccorso del sindaco per pochi e qualche assessorato. La cosa è certa, già definita, scrive Vasulo, ma io da adesso dichiaro la mia contrarietà e credo di poter dire la contrarietà della parte buona della città. Questo è il pensiero, come dicevamo, scritto su Facebook dall'esponente del Partito Democratico. Non si è fatta attendere la risposta di Domenico Messinese che attraverso una nota stampa sottolinea che dopo troppe partite perse è prevedibile che uno giocatore di poker possa rilanciare per bleff, ma non è questo il modo per accreditare se stessi o la propria corrente ad un congresso cittadino. Domenico Messinese commenta così dunque le voci su un suo accordo con Frange del PD che strumenterebbe dalla giunta gli assessori del Movimento 5 Stelle. Chiedere la collaborazione a tutte le forze politiche del Consiglio Comunale, ha detto il sindaco, non è segno di debolezza. Debole semmai è chi, anziché cercare di rimediare per le emergenze alimentate in tutti questi anni o avere la buona creanza di quarsi da parte, abbozza mediocri sceneggiature di fanta politica alla vigilia di un insanabile braccio di ferro interno al suo partito. Non sottrarò altro tempo alla mia vita istituzionale, ha concluso Messinese, controbattendo alle insensate illazioni di alchimie partitiche fini alla ricerca di potere. Il tempo di un amministratore responsabile va investito in impegno e serietà per la propria gente.